Rieccoci ancora qui in diretta, rivoluzione del mondo del lavoro attraverso la riforma che manda sostanzialmente in soffitto l'articolo 18. Ne parliamo con il sottosegretario del lavoro, il senatore Massimo Cassano. Benvenuto, buonasera. Allora, da qualche ora in Italia si applica questa nuova legge sul lavoro, il cosiddetto Jobs Act, che ha fatto infuriare i sindacati, però anche una fronda del Partito Democratico, devo dire, insomma una riforma molto discussa perché si teme che questa riforma possa incentivare la precarietà, almeno questa è la tesi che sostengono anche i sindacati, lo andremo a sentire tra pochissimo, senatore. Beh, intanto, buonasera, il fatto che qualche sindacato, non tutti, e una parte del Partito Democratico abbia avuto questa reazione vuol dire che qualcosa sta funzionando finalmente in Italia. Perché? Perché di fatto tutte le riforme del lavoro e tutte le contrattazioni che si sono fatte in Italia si sono fatte con i sindacati. Cioè, se la situazione nel mondo del lavoro è questa, una situazione molto molto difficile, evidentemente chi ha fatto queste riforme, chi ha gestito i tavoli per le contrattazioni, per una serie di iniziative che si sono fatte in Italia nel mondo del lavoro, probabilmente qualcuno sarà pure responsabile. Se partiamo da questo, vuol dire che abbiamo, diciamo, partiamo da un punto molto molto negativo, da quel punto negativo noi abbiamo fatto questa riforma, abbiamo proposto questa riforma e i primi risultati, i primi dati ci stanno dando ragione per la verità. Se partiamo dal fatto che in pochissimo tempo tra il job set e garanzia giovani siamo riusciti a creare più occupazione in Italia, i primi dati sono dati positivi, vuol dire che qualcosa di buono lo stiamo facendo rispetto al passato, dove, diciamo, non solo è aumentata la disoccupazione, ma hanno messo in difficoltà le aziende, le piccole e medie aziende che purtroppo non potevano più assumere, perché con le assunzioni, con la crisi che c'era, si creavano un problema in più ed evitavano di assumere. Io le rubo qualche altro secondo, le faccio un esempio. Quel limite delle 15 persone, quel limite delle 15 persone, cioè se tu avevi 14 dipendenti, avevi, diciamo, delle competenze di un certo tipo, se superavi le 15 persone entravi in un altro mondo, un mondo difficilissimo per le aziende. Le aziende che avevano 14 dipendenti, avevano la necessità di assumere... Si cresce alle tutele dell'articolo 18, toglie le imprese a partire da 15 dipendenti. Di assumere la necessità dell'azienda di assumere un'altra persona o due persone, evitavano di assumere. O se assumevano, assumevano con contratti, quei contratti finti, Progetto, tempo determinato. Che hanno inventato in Italia per evitare di pagare le tasse o di pagare una tassazione altissima. E i sindacati erano tutti contenti. Oggi che abbiamo detto che questo limite non deve esistere più, se l'azienda ha bisogno di assumere, deve assumere nelle stesse condizioni, anzi meglio, visto che abbiamo ridotto la tassazione sulle assunzioni del 10% la prima volta e del 10% la seconda volta per le aziende, io credo che sia un dato positivo. Del resto io credo che chi ha fatto queste riforme in passato e ha portato l'Italia a queste condizioni non dovrebbe nemmeno discutere. Ora noi ci mettiamo in gioco, facciamo delle proposte e vediamo cosa succede. Allora i pilastri su cui si poggia questa riforma sono i nuovi ammortizzatori sociali e i licenziamenti più facili, che poi è il dato che più ha fatto infuriare i sindacati e che forse è quello che più confligge con le tutele invece che erano garantite dall'articolo 18. Intanto il ministro Poletti ha garantito almeno 150.000 posti di lavoro in più nel 2015, questa è la stima che si fa e diciamo che su questo si gioca una partita di credibilità del governo Renzi su questa riforma. Sì, intanto come le dicevo prima i primi dati positivi stanno arrivando, la disoccupazione è diminuita, la disoccupazione giovanile, quella complessiva è diminuita, ci sono dei dati che vanno in controtendenza rispetto al passato, ma se parliamo di licenziamenti più facili evidentemente stiamo dando un messaggio anche sbagliato ai cittadini. Le imprese, gli artigiani, le piccole e medie imprese, i commercianti hanno anche loro dei diritti, se hanno dei diritti anche loro devono fare i conti con la realtà delle proprie aziende, se le proprie aziende non vanno, non funzionano e non possono fare a meno, non possono pagare i dipendenti, come possono tenersi questi dipendenti senza pagarli? Se noi invece diciamo, hai le aziende, hai le piccole e medie imprese, è inutile licenziare, perché noi ti stiamo abbassando le tasse, se tu assumi pagherai di meno, se assumi un certo tipo di, se assumi giovani per i primi due anni, per i primi tre anni, hai dei diritti che prima non avevi, quindi di non pagare addirittura la tassazione sulle assunzioni, l'imprenditore, il piccolo... Costa meno il lavoratore e quindi è più incentivato all'impresa. E quindi più incentivato ad assumere personale, quindi ad aumentare di più il fatturato rispetto alle aziende, ad evitare questo diritto che chi pensava di crearlo non ha creato, perché se la situazione è questa evidentemente non stiamo messi bene. E se i primi dati di questa riforma sono dei dati positivi, io dico proviamo a cambiare le regole, visto che il mercato del lavoro è cambiato in tutto il mondo. Non è che una riforma fatta 30 anni fa deve funzionare oggi. Oggi sono cambiati i tempi, è cambiato l'imprenditoria, è cambiato il mercato del lavoro, è cambiato il mercato globale, è cambiato tutto nel mondo. Come possiamo, come dire, adeguare i tempi di oggi a quelli di 30 anni fa? Io credo che sia... Si ripone tra l'altro molte fiducia in questa riforma perché incentivando le assunzioni, in qualche modo incentiva anche quel circuito virtuoso dell'economia. E poi, non le ho detto una cosa, abbiamo ridotto i contratti. I contratti erano 60, 40, 50. Ogni giorno si inventava un contratto diverso per evitare di fare... Per aggirare noi. Per aggirare chiaramente la mancata tassazione. Oggi abbiamo ridotto questi contratti ad un numero sicuramente più ragionevole. Abbiamo ridotto le tasse, io credo che siamo sulla strada giusta. Vedremo poi perché si chiama contratto a tutte le crescenti, lo capiremo. Magari spieghiamo in dettaglio di cosa stiamo parlando. Però andiamo a sentire il punto di vista invece dei segretari della CGL Puglia e della Will Puglia, Giovanni Forte e Aldo Pugliese. E poi commentiamo queste dichiarazioni con il sottosegretario lavoro Massimo Castano. Riteniamo che non è il modo per affrontare le questioni occupazionali che abbiamo. Insomma non si possono limitare i diritti delle persone, francamente. In una situazione in cui c'è bisogno di creare nuovo lavoro più che ridistribuirlo. Noi abbiamo la sensazione che tutti i posti di lavoro che si creeranno rappresentano un riciclaggio di quelli già in essere. Cioè è la precarietà che si trasforma in altri rapporti che comunque fra tre anni rischiano di cessare perché fra tre anni cesseranno gli incentivi. Si precarizza il futuro di tutte le nuove generazioni in quanto praticamente le tutele crescenti danno mano libera alle imprese di poter licenziare in qualsiasi momento.